Penso io, tra i due, che cosa faccio io i titoli del DG2? Sono bollissimi! Ascolta, signor Presidente Il ministro degli esteri europei e italiani ci allaguriamo ad un nuovo pacchetto Ascolta, signor Presidente Ciao 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 dai un bacio al cuginetto è pure un nonno c'era un bacio bacio al cuginetto dai bacio è un nonno un nonno bacio bacio al nonno 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 ma però non c'è arrivato il mattino no, non dici fammi le due mesi del 10 a meno questo è il 10 a meno domenica capi? ehi, per dove? il baby's evening domenica è qua l'ha sempre detto nemmeno ma come c'è andrea abbiamo cominciato buono messe a me non bacio il nonno Antonio bacio il nonno sono stati attiati vieni Nato, vieni un bacio il nonno, vieni a me portami le quattro sto qui andando purtroppo non ne che da bollare